Una giornata sulla neve che ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri per un 53enne bellunese colto da infarto mentre si trovava in un rifugio sul Nevegal. Immediata la richiesta di aiuto con gli uomini del soccorso Dolomiti che in pochi minuti con la moto slitta hanno raggiunto l'uomo portando il defibrillatore. Quando siamo arrivati abbiamo avuto la grande fortuna di trovare già un cardiologo che era presente sul posto quindi ci siamo affidati anche a lui. Abbiamo prestato tutte le cure utili e necessarie all'infortunato. Nel frattempo è stato chiamato anche il suo eme che è arrivato con l'elicottero e ha trasportato 53enne all'ospedale di Belluno. Providenziale la presenza sul posto di un cardiologo che ha supportato i soccorritori che avrebbero comunque potuto contare sul defibrillatore sempre presente a monte e a valle delle piste. Avremmo comunque applicato il defibrillatore nei modi consueti e nelle linee guida che ci insegna il BLSD.